Barone Vassallo, 10 settembre 2024, buonasera a tutti. Se io vi dico questo nome, COP26, voi cosa pensate? Naturalmente la quasi totalità delle persone pensano al supermercato. Invece COP26 è stato un meeting che doveva avvenire a novembre 2020, ma dato che eravamo in piena falsemia, fu spostato al 31 ottobre 2021. In questo meeting, in questo incontro che sta tanto di padrino, c'erano più di 120 leader mondiali. Vi dico alcuni nomi dei partecipanti. Tra questi 100 leader, 120 leader, era presente Macron, era presente Joe Biden, Boris Johnson. Naturalmente, per l'Italia, Mario Draghi, Naftali Bennett per Israele, e Trudeau per il Canada. Tra i grandi assenti, Jinping, il leader cinese. E naturalmente, dato che eravamo in piena lotta contro la Russia, è mancato anche Vladimir Putin. Questo era il messaggio di entrata del meeting. l'umanità ha giocato a lungo sul clima. Manca un minuto a mezzanotte sull'orologio del giorno del giudizio. Dobbiamo agire ora. Tra tutti questi pezzi da 90, c'erano anche un gruppo di green idioti, che erano dei partecipanti involontariato, involontariato, che praticamente erano degli attivisti green di Glasgow. Tra gli obiettivi che hanno messo in campo ci sono state poi anche tante proposte. E la proposta peggiore è quella che troverete nel titolo. Però vi dico quali erano gli obiettivi di questi personaggi. Raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, rimanere al di sotto di un grado e mezzo. I paesi sono invitati a proporre gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030, al fine di raggiungere la neutralità del carbonio entro la metà del secolo. Adattarsi e proteggere la comunità e gli abitati naturali che sono i più vulnerabili, più minacciati dai cambiamenti climatici. Mobilitare fondi per la causa climatica per raggiungere i primi due obiettivi e i paesi sviluppati devono mantenere la promessa di mobilitare almeno 100 miliardi di dollari all'anno per la causa climatica. Lavorare insieme per raggiungere la carbon neutrality. le sfide della crisi climatica possono essere affrontate solo se tutti sono mobilitati. Naturalmente qui si parla del fatto che anche solo un aumento di un grado e mezzo porterebbe a distruggere tutto a mettere in campo dei fenomeni di inondazioni di eventi atmosferici gravi piogge temporali e quindi questo porterebbe a deforestazione inondazioni e tra tutti i temi che si sono detti naturalmente ci sono stati quelli che hanno anche tra i più grandi attivisti di questa pagliacciata hanno dato il suggerimento di non far più revisionare le auto con oltre 15 anni quindi vediamo questi attivisti green questi attivisti che vanno in giro con i loro mezzi a mobilità animale a mobilità umana hanno dato questa questa grande idea ai signori presenti al COP26 ovvero di non revisionare più le auto con oltre 15 anni l'aumento degli obiettivi di riduzione delle emissioni a gas di effetto serra il finanziamento per la transizione energetica dei paesi più poveri tutto pagato da noi la riduzione delle emissioni di metano l'organizzazione del mercato del carbonio e naturalmente una guerra stretta all'automobile una guerra stretta all'automobile che si può mettere in campo anche con l'arresto delle revisioni per le auto con più di 15 anni pensate voi che cazzate che hanno messo in campo allora fatti 100 gli obiettivi da raggiungere ad esempio con due paesi si sono inventati la collaborazione bilaterale ovvero cosa succede se un paese come che vi posso dire molto molto indietro come ad esempio come parco circolante ad esempio la Spagna non riuscisse a raggiungere neanche parte di questi di questo 100 di questo fatto 100 e si mettesse d'accordo con l'Italia che la sua parte la deve raggiungere raggiungere l'Italia con la collaborazione bilaterale ovvero noi dovremmo fare il doppio dei sacrifici per arrivare a raggiungere la riduzione di CO2 che ad esempio un paese ho fatto l'esempio della Spagna ma potrebbe essere qualsiasi altro paese europeo ci dicesse a noi guarda noi non ci riusciamo facciamo un accordo ci pensate voi magari vi danno ai governi tot euro e noi naturalmente rimaniamo fregati o potrebbe essere anche l'Italia con un altro paese naturalmente questa è la collaborazione bilaterale di questi signori in questo meeting si sono fatti delle 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 proposte folli pensate voi 100 miliardi ogni anno per diminuire la CO2 e naturalmente ogni stato doveva portare secondo l'articolo 6.4 di questo double cleaning doveva portare un progetto per questa riduzione da qui al 2030 quindi questo famoso questa famosa agenda che va assolutamente portata a termine ora mi preoccupa molto il fatto assoluto che del COP26 si è parlato veramente poco e quando si nasconde quando questi personaggi nascondono c'è maggiore ferocia nel portarlo a termine andate a vedere cos'è il COP26 è veramente un una cosa da far venire da far venire la pelle d'oca ditemi cosa ne pensate ragazzi ci vediamo domani ciao a tutti